Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti e a tutti. Sono Carlo Cremona e sono il gestore del Bene Confiscato di Napoli via Antonio Genovesi, un Bene Confiscato che noi abbiamo intitolato, vi faccio vedere anche la targa, a Silvia Ruotolo e a tutte le vittime innocenti della mafia. All'interno del nostro Bene Confiscato si svolge il progetto Questa Casa non è albergo, che è un'accoglienza per ragazzi LGBT che sono cacciati di casa. Noi abbiamo vissuto questo lockdown semplicemente chiudendo all'interno di questa struttura la persona che al momento del 9 marzo era residente alla nostra abitazione, Valentino, il quale è rimasto praticamente isolato in questa casa che gli ha dato non solo rifugio ma anche la possibilità di sopravvivere decorosamente. Noi abbiamo lavorato in smart working e abbiamo utilizzato questi mesi di lockdown per sostenere con la spesa solidale tanti amici e tante famiglie che sono rimaste bloccate a casa, soprattutto la comunità transessuale, in particolar modo una comunità transessuale straniera brasiliana che ci ha chiesto una mano. Abbiamo fatto un gruppo di volontari che si chiamavano i Unicorni Rainbow e abbiamo grazie alla solidarietà di tanti e tante raccolto delle spese e le abbiamo distribuite portando sollievo alle persone. Oggi il centro riapre lentamente in sicurezza le porte e che dire speriamo di rivedervi presto a settembre in sicurezza nel nostro Rainbow Center Napoli e nel progetto mi sta a casa non in un albergo e l'associazione I can also.